Non si placano le polemiche sul completamento ed adeguamento della rete fognaria comunale a Capaccio. I lavori prevedono gli scavi anche nell'area archeologica di Pestum. La giunta capaccese tempo fa ha approvato un progetto di spettacolarizzazione dello scavo che avrebbe dovuto riportare alla luce la restante parte dell'anfiteatro con l'eliminazione dell'asfalto che a questo punto sembrerebbe compromesso. Un progetto che si avvale anche di un protocollo di intesa tra comune e soprintendenza. Intanto l'ex sindaco di Capaccio Enzo Sica è convinto che si stia scavando al centro dell'area archeologica di Pestum per interrare la rete fognaria. Già nel 2013 una ditta esclusa dall'appalto per i lavori della rete fognaria aveva inviato una nota all'ufficio di Pestum della soprintendenza sostenendo come non congrua la proposta migliorativa che avrebbe consentito alla ditta vincitrice di a giudicarsi la gara per il tratto di rete fognario di 930 metri nel sedime dell'attuale via Magna Grecia che attraversa l'area archeologica e collega il tracciato da via Nettuno e Vico Tavernelle valutata favorevolmente dalla stazione appaltante. La stessa è priva delle autorizzazioni dalla lettera inviata dalla soprintendenza al comune si legge che dall'esame della documentazione si è riscontrato che questa soprintendenza autorizzato con prescrizioni il progetto e i relativi grafici trasmessi dal comune che non prevedono nessun tratto di fognatura attraversante l'area archeologica e comunque in atti non risulta depositata nemmeno successivamente alcuna istanza. La nota della soprintendente Campanelli conclude l'eliminazione della strada che attraversa la città antica di Pestum costituisce uno degli obiettivi prioritari delle programmazioni di questa soprintendenza peraltro condivise dal comune. Grazie a tutti.